Ciao ragazzi, bentornati. Oggi vediamo insieme una nuova intelligenza artificiale, questa volta fatta apposta per React, per creare componenti React. Si tratta di V0, questa intelligenza artificiale sviluppata da Vercel, che è l'azienda più importante per quanto riguarda il mondo React, perché ha creato Next, Fa Hosting, sviluppa tantissimo ormai, ha un ruolo veramente importante ormai per React. Quello che fa è creare appunto dei componenti React già belli e fatti attraverso l'interazione dell'utente con questo V0, adesso vedremo come. Sono basati su Tailwind e ChubCNUI, che non è nient'altro che una libreria di componenti già fatti, su cui si basano probabilmente i componenti che vengono generati. Viene allenata su del codice che è costruito sia dal loro team, quindi immaginate l'azienda più importante nel panorama React, che allena un'intelligenza artificiale ad essere in grado di scrivere bene il codice React, quindi questo è positivo, mixata con altri progetti open source. Tra l'altro ovviamente poi verrà trainata da tutti gli utenti che useranno poi V0, con i loro prompt e con tutto quello che verrà. Come funziona? Molto simile in realtà a quello che fa MidJourney per le immagini, non so se ce l'avete presente. Ovvero dà la possibilità di scrivere un prompt, dire che cosa volete, per esempio qua c'è un esempio. Mi piacerebbe scrivere e fare genere, ma è una private alpha a cui io non sono ancora stato invitato, sono in waitlist. Quindi non posso provarlo, ma abbiamo già un sacco di elementi per quello volevo raccontarvelo, perché già è possibile vedere un sacco di componenti creati in questo modo. Quindi tramite un prompt voi vi chiedete un componente di interfaccia grafica, per esempio questo qua è aerosection in dark mode. Lui vi crea un componente, un componente grafico già fatto. In realtà, se ho capito bene, te ne propone tre nel momento in cui tu fai un prompt, quindi hai più scelta. La cosa interessante è che come tutte queste intelligence artificiali, quello che si va a fare è ogni volta correggere il tiro. Quindi voi chiedete il nome, con un prompt chiedete un certo componente. Questo qua è un hero component, è in email client, ha generato questo componente hero. Dopodiché, se andiamo alla versione 2, gli è stato chiesto di centrare il testo e le immagini. L'ha fatto? Non proprio, però ha lo stile più carino. Molto interessante perché, come vedete, i componenti sono abbastanza... Vediamo un po' cosa ha fatto qua. Ah, qua ha cambiato tutto il copy. Qua invece gli ha detto anche di aggiungere tre colonne. Come vedete, è cambiato di molto il componente. E così via, come vedete, è migliorato. Se torniamo all'ultimissima versione, ha creato questo componente qua. Che è molto... è fatto molto, molto bene. E lo proviamo in modalità... In modalità responsive si comporta anche abbastanza bene, ma quello ci sta... Oddio, c'è un po' di overflow. Comunque, è così magari del giustato. Cioè, ma adesso lo proviamo. Comunque, è abbastanza una figata. Questo, per esempio, è un contact form. Anche qua ci sono state sette iterazioni. E alla fine il contact form c'è. Vediamo anche il codice. Come vedete, a parte che c'è anche HTML volendo. Che probabilmente non usa ShadCdn, la ShadCn. Però se andiamo al componente React, quello che fa è andare a importare tutta una serie di componenti che dovrebbero essere quelli generati da, appunto, ShadCn, che genera dei componenti. Non installa veramente una propria libreria, ma genera dei pacchetti. Ma adesso lo vediamo. Poi abbiamo tutto vario codice con le utility class di Tailwind. Quindi una cosa abbastanza classica. Questo, per esempio, è un'applicazione del tempo simile a quella di iOS. E comunque ci sta una tabella. Anche la tabella è interessante. Vediamo. Ah, questo qua ha proprio tutta la pagina con anche il menu. Cioè, comunque è una figata. È ovvio che bisognava vedere la qualità rispetto al prompt. Però potenzialmente tutta la UI si può raccontare. Questo permette anche a persone, agli altri team, di partecipare alla creazione della UI. E quindi, tra virgolette, sviluppare l'interfaccia grafica. Perché scrivendo le cose nella maniera giusta e iterando, potrebbe arrivare al risultato finale che poi diventa abbastanza facile da implementare per lo sviluppatore front-end. E' questa cosa interessante. Proviamo a implementarne uno. Allora, ho visto questa piccola finestrella stile browser che mi piaceva tanto. Proviamo a implementarla. Dunque, io qua ho un progetto Next, molto basico. Come prima cosa, però, ci installiamo questo ShadCN che ho visto che, appunto, utilizza una sua clip per inizializzare i suoi componenti perché, appunto, non li installa. Qua, init. Yes, default va bene. Va benissimo quello base. Va bene. Va bene, va bene, dai, dai. Components. Sì, certo. Ok. Questo librerie mi ha aggiunto components.json. Sarà il suo file di configurazione. Credo. Qui c'è un lib con delle utility. Mi mancano, ovviamente, i pacchetti. Installiamo. Ok, adesso che ce l'abbiamo, abbiamo fatto tutto. Tra l'altro mi dovrebbe aver creato i componenti. Eccoli qua. Non li ha creati. Ah, bisogna poi aggiungerli uno a uno. Vabbè, proviamo. Dunque, abbiamo detto che noi volevamo fare questo. Quindi andiamo a dire i componenti. Ah, non ne ha nessuno. Vabbè. Ho preso un componente senza questa libreria. Meglio, meglio, perché poi me ne devo installare uno per uno. Non ce lo voglio. Ok, allora andiamo qua. Andiamo sotto components. Ci facciamo il nostro bel browser.tsx. Proprio mi incolliamo. Che cosa non gli piace. C'è un punto e virgola sbagliato. Vabbè, il punto e virgola lo accetto. Adesso vediamo come si vede. Togliamo tutta l'ambaradana qui. Questo, come si chiama? Compone. Seria becarino se potesse dare direttamente il nome, ma non chiediamo troppo. Lo importiamo e adesso lanciamo la nostra applicazione. Vediamo un po'. Eccolo qua. Abbiamo il nostro componente tale quale, come si vuol dire. Che, vabbè, ovviamente non è la migliore applicazione del mondo, ma è simpatico. Simpatico. Funziona. Non ho avuto grossi problemi, a parte quel punto e virgola che è stato male, ma va bene. Andiamo a vedere a occhio la qualità del codice. Allora, qua fa, utilizza flex. Mi sembra abbastanza pulito. Non vedo grandissime cose, a parte aveva i colori sul dark, ma questo qua è ovviamente il nostro amico Tailwind. Chi non ama questo tipo di sintassi? Sa, becca. Non aggiunge javascript forse? Non lo so. Perché di solito su altre librerie, per esempio questo, ti dava un array e poi ti clava su quell'array. Però magari al momento non lo fa o si vedrà. E qui invece abbiamo le nostre cose vuote, utilizza flex, poi grid. Mi sembra abbastanza pulito, non vedo cose strane, non vedo mille cose innestate. Ovviamente così al volo. E però figo, figo perché il processo di generazione di questi, di questi componenti è bellissimo. Se andiamo a vedere per esempio questo, vediamo un po' all'inizio come era. Era così, era così. Quindi c'era uno scheleton nella finestra. Dopodiché ha reso il tutto schifoso. Gli ha aggiustato le classi per la larghezza. Gli ha aggiunto la parra. Non dovrebbe essere così alto. Cioè ci ha chiacchierato dicendo fai ste cose. Gli ha detto cosa cambiare. Ogni tanto mi capita di vedere queste schermate di errore. Quindi evidentemente se sbagliate qualcosa o se lui va male, mi dice eh. Poi un altro prompt. Però li prende poi da dove era rimasto. Qua gli mette la menu bar. Poi gli dice di farla a stile macOS. Figo. Figo. È veramente da seguire. Tra l'altro io vi ho detto che era per React perché è per React. Ah in realtà qua scrivono che stanno lavorando e potrebbe includere in futuro anche Svelte View. Ah è anche plain HTML. Strano pensavo che quell'HTML possa dire funzionare. O lo stanno facendo, non lo so. Quindi potrebbe diventare questo V0 una AI molto specializzata nella costruzione di componenti di UI. Quindi creare componenti UI descrivendo passo passo quello che si vuole, intelligenza artificiale. Che è tornata nel modo giusto e facendo una cosa molto più specifica così sarebbe figo. Tra l'altro io non lo posso fare. Ma in questo video di Tio, che potete, vi metto magari i link in descrizione, si può poi, che lui ovviamente è dentro, può fare i test, può volendo selezionare anche i singoli elementi. Come vedete in questo caso, qua lo fa, e aggiornare il prompt per quel singolo elemento. Questa è anche un'altra roba assurda, assurda. Quindi sarà molto molto interessante. Altra cosa che ho visto, che un altro modo per installare i componenti in realtà è utilizzare questo. Anzi proviamolo. Vediamo cosa succede. Quindi con un comando, sempre con la loro cli, in questo caso invece è V0, può utilizzare poi un code per il singolo elemento. Vediamo cosa succede se diamo questo comando. Scusimi, dovrebbe aggiungere quel componente. Non ho idea di dove lo aggiunga. Ah ok, però ecco qua è quello che dicevamo prima. Qua ti chiede come vuoi che venga chiamato. Lo chiamiamo hero. Me l'ha messo sotto component. Faccio l'hero. Io non capisco perché punto virgola venga sempre sbagliato. Comunque, se adesso qua ci mettiamo al posto di questo, ci mettiamo il nostro hero. Eccolo qua. Andiamo a vedere adesso come va la nostra applicazione. Eccola qua. Abbiamo il nostro hero e direi anche, come prima abbiamo visto, è abbastanza responsive. Ed è molto figo così. Così aggiunge, beh non dovete fare copia e incolla se questo può essere utile. Potete semplicemente passare a qualcuno l'id delle componenti per installarselo. Quindi si passa anche tramite la loro libreria. Questo anche in realtà è molto interessante. centralizza molto la faccenda, perché poi si dovrebbe passare da Mercer per avere componenti. Una roba però non si può negare la potenza di una cosa del genere. Charge GPT e tutto il resto di questo tipo di AI, ovviamente col prompting ti permette di fare questo genere di cose, anche integrare un VS Code. Ma bisogna sempre verificare la qualità del codice perché va a costruire del codice. Ed essendo che è busa per qualunque cosa, non so quanto si arriverà a ottimizzare questa specifica cosa. Una cosa così specializzata invece, che ha un approccio molto più grafico. Per questo ci sta farlo su una piattaforma così e non nell'editor. Perché voi vedete il risultato e continuate a chiedere. È come fosse un generatore di immagini, ma in realtà sono UI con del codice. Quindi ha senso non integrarlo se non è pensata così. Ha fatto da un'azienda in questo caso, che è così verticale, interessante. Non mi piace l'idea che questa cosa muoia su React. Perché sarebbe invece bello fosse una cosa che si va poi in orizzontale su tutto. E diventi uno strumento per creare UI col prompting, con del codice di maggior qualità. A volte mi sembra che Versa volia essere l'Apple dello sviluppo. Con tutti i pro e i contro di una cosa del genere. Ma nella programmazione noi di Apple, di codice, non ne vogliamo vedere. Codice aperto, sempre e comunque. E possibilità di avere diverse librerie. Vediamo, vediamo. È sicuramente molto, molto interessante. È abbastanza figo come funziona il tutto. Appena avrò la possibilità di provarlo, tornerò su questi schermi e ci giocheremo un po'. Così abbiamo avuto un primo assaggio. Ma volevo condividervelo perché così magari anche voi potete iniziare a vederlo e mettervi anche voi in wait list. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Perché è un altro discorso molto, molto toccante. Non a livelli di me che parlo in francese, come nel video che ho pubblicato, che è abbastato abbastanza scioccante. In questo caso mi lascia un pochettino più felice di vedere come andrà avanti senza troppe cose inquietanti. Come sempre, grazie per aver visto il video. Noi ci vediamo alla prossima.